Un nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca collegherà la strada statale del Brennero alla strada provinciale francigena e sarà realizzato grazie ad un accordo sottoscritto dal presidente della Toscana Enrico Rossi e dal presidente della provincia Luca Menesini, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, del sindaco Alessandro Tambellini e del consigliere regionale Stefano Baccelli. L'accordo destina 14 milioni e mezzo di euro di risorse del fondo di sviluppo e coesione alla costruzione del ponte, che interessa una zona particolarmente popolata della città. La firma dell'accordo di programma di oggi sblocca ulteriormente e accelera l'iter che prevede per la fine dell'anno sostanzialmente la possibilità della consegna di lavori per poi arrivare ad una conclusione dell'opera indicativamente nel 2022. Attendiamo da tempo quest'opera, dal 2011, ora finalmente siamo a stringere e noi siamo molto contenti ovviamente perché è il modo per mettere in sicurezza il territorio, è una messa in sicurezza il territorio, è così essenzialmente. Mentre la regione finanzia l'opera, la provincia di Lucca farà da responsabile del procedimento e da stazione appaltante per l'opera. La regione poi è riuscita a dirottare oltre 15 milioni per la realizzazione di questa importante infrastruttura. Con la firma di oggi diamo via all'iter attuativo perché la provincia che è stazione appaltante in questo momento è in condizione di poter procedere per quanto riguarda la gara e per poi veder realizzata un'opera che sarà di sicuro beneficio per quanto riguarda la mobilità nell'ambito del sistema lucchese.